Quando il rapporto fra parola e verità si rompe, ne risente il corpo, ma anche la mente. Il corpo si ammala, la mente si offusca. Quando la parola si allontana dalla verità dei fatti, la menzogna, pervino la stessa omissione della verità, rivolge in una disfunzione corporale che può condurre a conseguenze estreme, perfino alla morte.